C'è bugata, è bugata bellissima, vai 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 Muori Dai muori Dai ti sbaggo io, ti sbaggo uccidendo Sì vabbè, buggati quanto vuoi Ciao a tutti ragazzi, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video E oggi siamo sul server dello Shotbow server Allora, inizio subito Allora, credo che questo gioco lo conoscete un po' tutti Si chiama, detto in parole povere Graffting Grafting Iozzare e negro Iozzare e grande e negro No, non sono racista tranquilli Crafting Crafting Avavavava Avavava Crafting mamma, ecco, finalmente mi è uscito No, no, non devo prendere i zombie big man Non devo prendere i zombie, questi bastardi che si nascondono Oh ma vaffanculo, oh bravo ti sta bene Cosa deve fare in questo gioco? Allora è semplice Per i primi minuti bisogna andare in giro a uccidere e raccogliere Tutto, quanto più latte Tutti i drop che possiamo Uccidendo più possibile animali Mucche, vedete mi hanno già troppato del latte Stando attenti a non colpire dei zombie pigmen Perché ci rallentano un botto Perché iniziano ad attaccarci come sapete tutti quanti insieme E rallentandoci Tipo, ok, sì Rallentandoci Cioè non devono rallentarci altrimenti non riusciamo a vincere Mi pare una cosa ovvia Capitanovio Come al solito Charlie Capitanovio Dovrei chiamare il nome da Charlie a Capitanovio E ogni tanto ti danno delle indicazioni tipo Cake is falling Ma non capisco dov'è che cadono queste cake Vabbè, prendiamo un po' di mele Anche le mele sono importanti Cosa dobbiamo fare con tutta questa roba che stiamo prendendo? Praticamente dobbiamo Arrivati a un certo punto Entrare nella nostra cucina Che viene scritto lì vicino Vedete A sinino Qual è la destra Charlie? È la destra A destra ti dice Qual è il numero della tua Della tua Vattene, vattene Vai via Vai via Guardate Con questo bastone andiamo a prendere Abbastonate gli altri giocatori che ci stanno antifatici Come per esempio questo Mi sta mettendo sul cazzo Ok Dobbiamo andare nella nostra cucina A cucinare quello che abbiamo preso Tra virgolette O a Non so nemmeno bene come dire Perché non è esattamente cucinare Vabbè, ora vi farò vedere Dobbiamo craftare quante più cose possibili E nella lobby ci daranno infatti una cosa che ci dice il punteggio Allora, innanzitutto mettiamo a cucinare questo E questo Avevo della carne, sì Non ho altro spazio, no Poi ci facciamo lo zucchero Così possiamo farci Obba, sì Che culo Ho appena appena abbastanza Ah no Neanche due in più, perfetto Ci facciamo una torta Quante torte riesco a farmi? Solo una? Solo una La cosa non mi piace Poi riesco a farmi Oh, cacchio Non mi ricordo come si fanno i punkies Forse era così No, non mi ricordo come si fanno i punkies Mannaggia Se mi ricordassi sarebbe O forse era il contrario Forse era così E poi era Un blocco sul centro No Fantastico Ma io mi ricordo che c'erano sia i coabin Che il wit Vabbè, non fa niente Non importa Poi vediamo Riusciamo a craftarci qualcos'altro? No, perché non abbiamo abbastanza funghi Bene, allora andiamo a cercarci dei funghi Però dobbiamo muoverci Perché abbiamo solo un minuto E dobbiamo trovare davvero tantissima tantissima roba Allora, qui c'è l'ira di dio Uccidiamo un po' di sticosi qua Un po' di mucche Stavo per prendere lo zombie pigman Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut oddio sono tantissime mi chiedo dove posso trovare con la zucca posso fare l'apple pie che anche quella non mi ricordo come si crafta quindi vaffanbreccio non posso fare un cavolo perché non mi ricordo come si craftano le cose e cavolo abbiamo solo 50 secondi dov'è dov'è la mia casa corri 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 devo andare a mettere tutto nel lander chest tutto nell'anderceste tutto 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 un accendino tutto 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 allora innanzitutto questo poi questo allora mettiamo questo perché non funziona lo shift click vai cro exper c ora funziona questo pò mettiamo un fatto tutto 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 anche se non vale un cavolo Quello che sto dando Non importa Dobbiamo mettere No questa la voglio Se non ti dispiace L'ho presa? Sì Ok allora mancano 5 4 3 2 1 Ok E adesso vedremo Chi ha dato più roba Oh io ne sto cacciando tanta di roba Però non ho dato per niente Gold nugget Perché non so come li ho droppati L'altra volta No Sono arrivato al terzo posto Beh sempre meglio di zero Ah ma ci si può ancora picchiare Nel culo Nel culo Tendi qua Oh Non si picchiano le ragazze Come ti permetti? Le ragazze non si toccano nemmeno con i fiori Beh però sono arrivata terza Un buon risultato Calcolando che è la seconda volta che ci gioco E non ricordavo come si facesse metà della roba Quindi va bene Perché quel tipo droppa acqua? Ti diverti? A droppare acqua Va bene Gente che si diverte Ok adesso aspettiamo Magari ci facciamo un'altra partitella Vediamo un po' Oh il progre Oh qui Ok Allora Forse mi sono ricordata Come si fanno i cookie Però Devo prima prendere tipo dei cocoa bean Perché stai su quel poll Vabbè non mi interessa fai quello che vuoi Atti osceni in pubblico vi avverto Oh cadono mele dal cielo Cake is falling Ma dove? Ma ti droghi? Dice che cadono le mele qua Ma non cade assunissima mela Allora prendiamo più roba che possiamo In questo gioco l'importante è prendere più roba che si può Perché poi si deve craftare la roba E quello È fondamentale Prendere tutto quello che possiamo nel minor tempo possibile Infatti come vedete io sto menando tanta gente a caso Perfettamente a caso Magari anche Non dovrei nemmeno menarla No con questo maledizione Perché non mi droppate più Ah ok me l'avete droppato bravo Dovete dropparmi più funghi voi Un po' più funghi Mucche forza mi prego Oh si 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 Continuate così Droppate bella roba Più funghi più funghi Non quelli ai piedi Non quelli ai piedi ok Vai 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 No 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 uova Non ho uova Le uova le uova le uova Le uova le uova le uova Dammi le uova dammi le uova Voglio una gallina con un po' di uova Muori gallina muori Come faccio a fare di droppare le uova delle galline Non devo distruggere l'erba Devo distruggere le galline Tu muori 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 Patate 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 Tante patate Tante patate Tante carri Oh mi hanno droppato due uova Due uova due uova Due uova Ok ancora 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 Allora Tu che hai da darmi Tu che hai da darmi C'è bugate È bugata bellissimo Vai 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 Muori Dai muori Dai ti sbaggo io Ti sbaggo uccidendo Sì vabbè Baggati quanto vuoi Allora Andiamo a vedere di poter craftare qualcosa E di Sei Da quella parte Vai La kitchen sei Ve lo consiglio davvero tanto questo minigame Perché è molto 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 carino Allora mettiamo a cucinare Le patate Tanta carne avevo Sì avevo 26 di carne E ora facciamo Qualche torta Allora Non so quante ne posso fare Vediamo un po' Eh ma ho poco grano Strano Di solito è più il grano Che idiota che sono Se prima non faccio lo zucchero Che cacchio voglio fare Sono pure lenta a sto punto Vabbè Oh Non Ok Allora No Ok Allora così Così No che cazzo ho fatto Non è così Allora è così Vai Poi Quanto tempo ho? Eh uff Ho ancora un bel po' di tempo Però mi serve un'altra cosa di latte Perché se ne prendo un'altra Posso farmi Però intanto Facciamoci Mi sa che si faccia Sì Sì E vai Ok Allora mi serve Innanzitutto mettiamo qua queste mele Che non servono a nulla Eh E andiamoci a prendere un altro po' di grano Altro 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 grano Datemi il grano Datemelo No Ancora abbastanza Ancora di più Ancora di più Ancora di più Ancora di più Poco grano Poco grano Eh Prendiamo un po' di carote Ancora Che non servono a nulla Però prendiamole Tu vattene Mi stai antipatico Chiudiamo la porta Che se no ci sono gli spifferi Lasciamo via le carote Via i cookies Poi mi crafto La ciotola Vediamo quante Qua in sotto Vediamo quante me ne escono Eh non male Non male Non male Non male Vai qua Vai qua Vai qua Qui 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 Ok Poi che altro Ha questo Oh Altre patate Perché fate finta di essere cotte Bastarde Ancora carne Ancora carne Ancora carne Questo Questo E poi Che altro Che altro Che altro Faccio altri biscotti Altri biscotti Altri biscotti Ehm Molti biscotti posso fare Eh uff Ancora un bel po' E poi faccio ancora No 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 Il latte Che idiota Eh vabbè Non so cosa fare Faccio altri biscotti Non po' No avevo tutti questi biscotti Da dare Dai Avevo tutti i biscotti Mi ho fatto solo in tempo a metterli Oh ma tu hai finito di droppare roba Oh Levati Ma perché finisco sempre terza Maledizione Sempre terza arrivo Che palle Sempre meglio di ultimo Ma che pizza Sempre terza Vabbè ragazzi Questo era il minigame crafting mama Ditemi se volete qualche altro episodio Su questo minigame A me piace molto Quindi forse lo farò Ehm Vi ricordo che Di lasciare un mi piace O un commento Se il video vi è piaciuto Quindi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao